Vado Ok, ragazzi, un micro, 548 Consiglio, secondo 2A, scala Ok Mi raccomando, eh Forza chi ha, forza Su Droppa Poi vedi i pesi Allora, bianciere 15 Aspetta 15 kg 20 kg Fira fuori 10 kg Totale, 75 Vai 15 kg Ma sì, dai, non ce l'abbiamo 20 20 16 Sempre 20 30 12 21 20 19 22 23 23 20 20 20 20